L'Avvocato Mauri ed io nelle prossime settimane valuteremo eventuali istanze relative all'ingiusta detenzione. Poi siccome abbiamo sentito che già si parla di risarcimento di danni a 360 gradi, se abbiamo in mente la responsabilità civile nei confronti dei magistrati, se vogliamo frustare qualcuno eccetera, la risposta è che non ci sono sentimenti di vendetta nell'animo di Raffaele Sollecito e che quindi si aspetterà poi la motivazione per qualsiasi approfondimento che non esiste il concetto che se c'è un giudice che condanna e poi c'è una soluzione, allora noi facciamo l'azione di responsabilità civile contro chi ha sbagliato. Quindi chi ci vuole dipingere come coloro che ora andranno in giro a frustare chi ha sbagliato, ha sbagliato completamente a dipingere noi avvocati. Vedremo se ci sono stati degli errori, vedremo che iniziative assumere, ma sono cose lontane nel tempo che meritano meditazione, distacco. La responsabilità civile è un istituto serissimo che va esercitato a certe condizioni, non va esercitato con spirito di vendetta e quindi non ci sono allo Stato in caldo iniziative di questo genere.